Prendirà il via alla mostra d'oltremare la 43esima edizione di Expo Sud Hotel, la più grande occasione di riflessione nel centro-sud Italia, dove per 5 giorni si ritroveranno 300 espositori su una superficie di 15.000 m2. Dal 16 al 20 novembre Napoli sarà quindi luogo d'incontro per il comparto industriale che gravita intorno all'accoglienza e alla ristorazione. L'Expo Sud ha ovviamente tutta l'esposizione di prodotti, di merci che caratterizzano questi settori dell'Oreca, però ha moltissimi eventi, quindi praticamente è un po' un filone di quelle fiere che sono partite dalla Francia, da Cannes in particolare, che sono delle fiere cosiddette boutique, dove praticamente il visitatore, che in questo caso è un visitatore professionista, trova tantissimo al di là dei prodotti, quindi occasione di incontro, di contenuti, di informazioni. Non solo esposizione quindi, ma anche un calendario di eventi collegati al settore dell'Oreca. Tra le varie iniziative in programma è il secondo trofeo chef emergenti, il campionato europeo di pizza ed il trofeo barista dell'anno. Un appuntamento che lo scorso anno ha richiamato più di 21.000 visitatori e che oggi, nonostante la crisi economica, continua ad attirare l'attenzione degli imprenditori del meridione. Invece di andare a risparmio in un anno assolutamente complesso dal punto di vista finanziario, abbiamo avuto una risposta ancora dall'impresa, soprattutto regionale, di forza, di investimento e non di razionalizzazione.